Bene, ciao a tutti ragazzi Oggi apriremo 10 pacchetti delle Adrenaline 10 E la prima volta Apriremo le Premium 1 No, no, non so quando però Le apriremo E le poi non so quando Apriremo le 2 pacchetti Apriremo Abbiamo il secondo pacchetto Terzo pacchetto Naikolan Stella Naikolan Stella Ragazzi Naikolan Stella Mi serve Abbiamo il quarto pacchetto Nel quinto pacchetto Personal che ci interessano Il sesto pacchetto Questa è le arme Le ho fitte tutte Allora Sesto pacchetto Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Andiamo a aprile Un po' Un po' Mi serve molto attenzione da Roma e molto non vado a prenderlo e su meno di... su meno di lente mi servono andiamo a prendere il penultimo pacchetto allora ragazzi l'ultimo pacchetto l'ultimo